Ma io devo guardare a quelli che vanno, io sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo e farà sicuramente bene, darà il 101% perché saranno vogliosi di dimostrare, perciò purtroppo non ci sono però dobbiamo guardare a chi c'è e io sono convinto che chi c'è farà la sua partita. Allora il suo tiro è più fase offensiva? La fase di non possesso deve sacrificarsi perché noi come fa Maras dobbiamo come fosse un centrocampista nel senso che quando sei a fase di non possesso tu devi essere a 2000 all'ora a recuperare la palla, a fare quei movimenti che proviamo in allenamento nella fase difensiva soprattutto perché loro hanno giocatore come Iori che è molto bravo nella fase di impostazione gioco e quello che dai tempi alla squadra è la mente della squadra, è una squadra che secondo me va sempre presa con le pinze perché l'ha dimostrato a Brescia dove ha vinto meritatamente, io ho visto la partita, ho fatto una grandissima partita perciò sappiamo cosa ci aspetta. Una partita molto intensa, di grande ritmo, non dobbiamo perdere palle in uscita perché loro sono assatanati nel recupero palla e nel ripartire in tanti uomini, perciò dovremo stare molto attenti nelle uscite di gioco e al loro ritmo, alla loro aggressività che è la loro arma migliore. Non dobbiamo malare una palla, nel senso che quelli sono proprio bravi in questo, perciò noi sul piano del ritmo, dell'aggressività, della pressione, dobbiamo viaggiare a pari livelli con loro, se no diventa una partita difficile. Adesso siamo arrivati nel momento chiave del campionato, questo sì, ma non solo per noi, per tutte le squadre, credici pure perché io non faccio questi conti qua, perché se ti dico che non so neanche quali sono quelli di playoff, la media è quello che dobbiamo fare, perché so che non devo ragionare in questo modo qua, io devo ragionare in modo diverso. Se cominci a far calcoli non vai in nessun posto secondo me, i conti si fanno sempre alla fine e io sono abituato così, non li faccio adesso, li faccio alla fine del campionato, dico abbiamo fatto bene, abbiamo fatto meno bene, dipende dal finale. Quello che è stato è stato, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro fino adesso, però dobbiamo far bene anche da qui, in queste ultime dieci partite che sono determinati.